Libro primo. Incominciano le esortazioni utili per la vita dello spirito. L'imitazione di Cristo è il disprezzo di tutte le vanità del mondo. Chi segue me non cammina nelle tenebre, dice il Signore. Sono parole di Cristo, le quali ci esortano a imitare la sua vita e la sua condotta, se vogliamo essere veramente illuminati e liberati da ogni cecità interiore. Dunque, la nostra massima preoccupazione sia quella di meditare sulla vita di Gesù Cristo. Già l'insegnamento di Cristo è eccellente e supera quello di tutti i santi, e chi fosse forte nello spirito vi troverebbe una manna nascosta. Ma accade che molta gente trae un ben scarso desiderio del Vangelo dall'averlo anche più volte ascoltato, perché è priva del senso di Cristo. Invece, chi vuole comprendere pienamente e gustare le parole di Cristo deve fare in modo che tutta la sua vita si modelli su Cristo. Che ti serve saper discutere profondamente della Trinità se non sei umile e perciò alla Trinità tu dispiaci? Invero non sono le profonde dissertazioni che fanno santo e giusto l'uomo, ma è la vita virtuosa che lo rende caro a Dio. Preferisco sentire nel cuore la compunzione che saperla definire. Senza l'amore per Dio e senza la sua grazia, a che ti gioverebbe una conoscenza esteriore di tutta la Bibbia e delle dottrine di tutti i filosofi? Vanità delle vanità, tutto è vanità, fuorché amare Dio e servire Lui solo. Questa è la massima sapienza, tendere ai regni celesti, disprezzando questo mondo. Vanità è dunque ricercare le ricchezze destinate a finire e porre in esse le nostre speranze. Vanità è pure ambire agli onori e montare in alta condizione. Vanità è seguire desideri carnali e aspirare a cose per le quali si debba poi essere gravemente puniti. Vanità è aspirare a vivere a lungo e darsi poco pensiero di vivere bene. Vanità è occuparsi soltanto della vita presente e non guardare fin d'ora al futuro. Vanità è amare ciò che passa con tutta rapidità e non affrettarsi là dove dura eterna gioia. Ricordati spesso di quel proverbio Non si sazia l'occhio di guardare né mai l'orecchio è sazio di udire. Fa dunque che il tuo cuore sia distolto dall'amore delle cose visibili di quaggiù e che tu sia portato verso le cose di lassù che non vediamo. Già che chi va dietro ai propri sensi macchia la propria coscienza e perde la grazia di Dio. Grazie a tutti.